Il sindaco, lei ieri commentando le parole di Salvini riguardo al censimento di Roma aveva detto mi sembra di sentire parole e pensieri simili a quelli di Hitler e Mussolini, oggi Salvini ha risposto con un tweet a queste sue parole dicendo che non è così che lui si preoccupa solo di rimettere al centro l'orgoglio degli italiani. Come affermazione per la prima volta potrei andare d'accordo con Salvini perché noi siamo tutti impegnati a restituire orgoglio al nostro paese quindi se l'intendimento è questo l'Italia può ripartire dall'orgoglio di essere un grande paese però per poterlo farlo non si deve perdere il DNA del nostro paese che è quello dell'umanità, della coesione, dell'unità nazionale nella valorizzazione delle differenze nell'articolo 3 della Costituzione, la forte polemica con Salvini ma non solo con Salvini, io direi col governo perché Salvini pare quasi essere il Presidente del Consiglio in questi giorni almeno come presenza intendo dire che di fronte a delle affermazioni, di fronte a delle dichiarazioni in aperta violazione della Costituzione pubblicana e delle caratteristiche dei trattati in cui gli esseri umani del mondo si riconoscono cioè quello di aiutare le persone e non discriminarle col colore e colore della pelle e questo fa un discrimine enorme tra noi e il governo e le posizioni di Salvini poi che posso dire? Le nostre posizioni sono state posizioni molto semplici quando abbiamo fatto di fronte a chi riteneva che l'Aquarius fosse una crociera e che bisognava lasciare morire persone nel mare noi siamo rimasti umani, ascolto un grandissimo piacere ma non è una novità, è una conferma oggi parole nettissime del Papa qua è un tema di umanità, quindi qua è un momento importante perché ci si sta dividendo finalmente sui valori veri allora se Salvini ha veramente a cuore come esponente apicale di questo governo di ritare dignità e orgoglio a questo Paese smettiamola di fare propaganda, evidentemente per non riflettere sul nulla che finora è stato fatto e cominciamo a parlare dei problemi che integrazione vogliamo per le persone che vengono nel nostro Paese che Europa vogliamo costruire come vogliamo contrastare la violenza di strada, le corruzioni, le mafie, le baby gang come vogliamo creare sviluppo ecco, su questo sarebbe utile confrontarsi ognuno con le sue responsabilità, il governo nazionale, gli enti locali, i cittadini, tutti e noi abbiamo dimostrato di farla a nostra parte io chiudo, direi che forse è venuto il momento che rendessero conto dell'inizio di progetti di governo perché si sta parlando da alcuni giorni come se esistesse ancora in campagna elettorale questa è la sensazione un po' che si ha invece cominciamo, come dire, a dare delle risposte io una domanda già l'ho fatta a Salvini e non risponde Salvini, per dare più sicurezza ai territori delle nostre città e non solo di Napoli sei in grado di poterti impegnare di mandare un rafforzamento delle forze e l'ordine nel nostro Paese? Sei in condizioni finalmente di eliminare quella stortura che voi avete creato che sono i centri di accoglienza straordinari dove vengono depositati gli esseri umani? sei in condizioni di impegnarti finalmente con una politica estera degna a fare una cooperazione internazionale che rispetti i popoli nei loro territori e ti puoi prendere l'impegno di non fare più guerre in violazione ti prendi l'impegno di rivedere quello che hai già votato perché il pareggio di bilancio che ha creato quest'Europa così diseguale l'hai fatto tu ecco io vorrei cominciare a parlare dei problemi altrimenti andiamo dietro agli slogan e sicuramente Salvini si è già posto abbondantemente in un solco di contrasto alla Costituzione su cui ha giurato grazie a tutti